buongiorno si lo so sono un po sparita lo ammetto però ero diciamo presa da altre cose un po più importanti quindi non ho avuto modo e eccoci qua siamo al secondo vlogmas calcolate che oggi dovrebbe essere il 15 16 non mi ricordo e fatto sta che io sto al secondo vlogmas cioè c'è gente che sta tipo al tredicesimo quattordicesimo quindicesimo e sto al secondo vabbè comunque ve l'avevo detto ma questa cosa sta per finire sta per terminare per fortuna perché finalmente mi mettono la fibra iuppi quindi una volta messa la fibra praticamente io avrò molto 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 più possibilità di mettervi video tutti i giorni io non vedo l'ora perché questa storia di internet mi sta veramente ci sta provocando dei problemi un po in generale perché anche con netflix con netflix con comunque per guardare anche disney plus eccetera diventa un po un problema comunque sono qui allo specchio perché volevo farvi vedere un attimo il mio outfit che è interamente di new diva questo è un maglioncino che io ho preso per me e per mia figlia uguale solamente che a mia figlia l'ho preso rosa ed è questo maglioncino qui caldissimo ragazzi perché qui da me sta facendo un freddo cane e questi pantaloni che però non so se ancora hanno con questo bel cintone ovviamente di plastica ragazzi con questo bel cintone e con queste tasche laterali carinissime e vabbè gli anfibi sono di sono di globo ma l'avevo presi l'anno scorso e questo vi volevo far vedere è il mio outfit della giornata di oggi qui da me è freddissimo ragazzi poi ha messo anche ipoteticamente ha messo la neve a natale quindi io non vedo l'ora perché almeno sto a casa e non devo vedere nessuno diciamo che per natale sto un po messa così e niente ah poi novità come potete vedere sono gli occhiali non mi dite che mi stanno male perché se no mi prende in colpo perché questi occhiali praticamente sono stati un po un investimento perché praticamente sono costati tantissimo le lenti sono costate tantissimo perché sono quelle più fine calcolate che a me mancano 5 gradi a occhio quindi per forza il lavoro che bisogna fare sulla lente dei miei occhiali è molto 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 lungo e mi sono costate tantissimo a lente in più la montatura costa perché comunque è una montatura di marca lo ammetto ma non l'ho presa perché era di marca l'ho presa perché mi piaceva proprio di avere una montatura fina piuttosto che una montatura di quelle spesse come ce l'avevo prima ditemi come mi stanno secondo voi io la preferisco perché almeno riesco a vedere un po di più il mio viso perché sinceramente con la montatura quella che avevo prima c'era questa cosa nera che non è che mi piacesse tantissimo invece così riesco a vedermi bene il viso e in più cosa molto molto importante riesco anche a vedere perifericamente cosa che prima non potevo fare perché avevo la bandina nera quindi a me piacciono tantissimo sono stati un investimento molto 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 bello ve li faccio vedere più da vicino so come mettermi ok ecco questi sono gli occhiali e ditemi secondo voi come mi stanno se mi stanno male tanto non me la prendo perché che me la prendo a fare adesso sistema un pochino casa anche se i letti l'avevo già fatti prima di uscire devo dire la verità sistema un pochino casa e poi penso a cosa fare per pranzo perché non ne ho la più pallida idea e niente e poi vado a prendere i figli ovviamente perché questo è quello che faccio stamani praticamente quello che dovevo fare ho già fatto tutto quindi grande 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 a ragazzi volevo farvi vedere come ho addobbato casa e adesso ve lo faccio vedere un po tutto quanto così almeno vedete un pochino allora vi dico subito prima di tutto che ho addobbato solamente la sala perché non non volevo addobbare tutta casa e ho messo le luce esterne quindi questo è allora quando entrate in sala dalle camere troviamo questo questo è il mio villaggio di natale allora questo villaggio di natale è il frutto di tre anni di di pezzi non l'ho preso tutto insieme non l'ho preso tutto insieme ovviamente perché sarebbe costato un patrimonio un pezzettino ogni anno mi faccio il mio villaggetto allora ho fatto anche un reel su instagram ma ve lo voglio far vedere lo stesso e vedete le casine queste qui sono le casette di ikea che ho preso l'anno scorso questo preso l'anno scorso e l'alberello boppo natale che gira eccolo qua una casettina che in realtà è un porta candela che io ho dipito a casetta la casetta del il negozio di dolci che mi piaceva tantissimo poi qui abbiamo la giostra ovviamente perché non poteva mancare e la casetta di babbo natale eccola qua adesso ve lo voglio accendere così ve lo faccio vedere tutto insieme acceso eccolo qua ragazzi vedete quanto è carino tutto acceso guardate questo è proprio la casetta di babbo natale è fantastica poi questo qui non gira perché le batterie sono scariche la casetta questa qui che in realtà si illumina da dietro da sola ecco qua illuminata poi abbiamo appunto babbo natale che gira con l'alberello illuminato anche lui questo secondo me è il pezzo più bello di tutto il villaggio è questo albero totalmente illuminato guardate che bello bellissimo con babbo natale che gira vicino wow buon natale vabbè lasciate perdere poi qui abbiamo questi che fanno su sul sul ghiaccio che fattinano sul ghiaccio e dietro appunto le casettine di ikea e questo è il villaggio di natale fa un bell'effetto vi assicuro che fa veramente un bell'effetto poi andando avanti abbiamo il presepe allora noi amiamo tantissimo fare il presepe e quest'anno abbiamo messo anche delle cose nuove diciamo che si muovono come e che sono con le pile tipo tipo questo qui dietro che fa il fogherello qui c'è la capanna di tutti quanti i personaggi che vanno verso verso la capanna qui un po di lavoratori questa che non ve l'accendo ragazzi perché se no esce l'acqua e devo correre al bagno perché mi scappa la pipì qui c'è tutto il villaggio dei lavoratori abbiamo messo questo è il pezzo che ha voluto comprare alessandro la pizzettara ovviamente a gerusalemme c'era già la vita a betlemme scusate a betlemme c'era già la pizza la pizzettara poi non mi mette più a fuoco ok qui abbiamo altri lavoratori i soldati romani ragazzi udite udite quest'anno anche questi il il ponte ok e qui ci sono i re magi che ovviamente stanno aspettando e questo è il presepe io devo dire che preferisco fare di gran lunga il presepe dell'albero è questo è tutto il presepe vedete quanto è grande prende praticamente tutto il mobile sotto il il televisore e questo è adesso vi faccio vedere l'ultimo pezzo l'ultimo pezzo è questo intorno al camino dove c'è l'albero con tutti i personaggi qui allora partiamo da qua questi sono i babbetti che avevo pure l'anno scorso che ho preso da ikea questo qua è un babbo natale che ragazzi ha la mia età perché è di quando io avevo un anno il mio primo natale poi ci sono questi tre elementi il lampione il pupazzo di neve che mi piace tantissimo e la gnoma con le gambe lunghe che le ho prese al mauris e questi sono i personaggetti sparsi poi qui abbiamo già alcuni regalini di natale poi qui abbiamo due folletti che sono stati regalati dagli amici dei miei figli una befanina perché ci sta e qui abbiamo i soldatini allora sono quattro perché la collezione è iniziata a breve questi due sono dell'anno scorso questi due sono di quest'anno questo ragazzi è bellissimo mi piace tantissimo e poi si rifà all'albero che quest'anno abbiamo fatto tutto rosa tutto 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 completamente rosa e bianco con sotto il coso peluscioso faccio vedere un po' una panoramica allora le palline le ho prese dal mauris come anche questi pacchettini qui sono bellissimi sono di come si chiama di gomma piuma si poi ci sono un po' di palle lavorate degli altri anni bianche ci sono questi qui che li ho presi l'anno scorso e che ce li ho voluti mettere perché ci stanno benissimo i soldatini canterini e poi ci sono queste decorazioni qui che le ho prese all'euro spin l'anno scorso ce l'ho in tutti i colori perché ovviamente le alberi ogni l'albero di natale ogni anno io lo cambio di colore quindi ci sono sia i fiocchi che l'albero e niente e questo questo è l'albero a me quest'anno piace tantissimo l'unica cosa che non mi piace di quest'albero è che non è fittissimo non è molto folto però insomma ci accontentiamo a questo è un regalino trovato nel calendario dell'avvento di filo man amore spero di non aver spoilerato nessuna nessuna sorpresa perché ho preso due borse per mia figlia quindi è uscito fuori quello questa è l'altra parte questo qui è un cerbiattino che mi ha dato l'idea mio figlio per il prossimo anno e voglio fare un un albero tutto di animaletti e questo niente questo è l'albero ragazzi vedete molto molto semplice questo è come ho addobbato io quest'anno per il natale a poi mi sono dimenticata a farvi vedere questo questo è il mio centrotavola questo è il mio centrotavola allora sotto ho preso un piatto di quelli che si usano per i pandori avevo queste decorazioni un po sparse le ho volute mettere a mo di ghirlanda e questo è una boccia io non so mai come si chiamano questi un globo ecco un globo a carillon che adesso prova ad accendervi vi ho dovuto mettere la musichetta per sotto perché se no mi mi bloccavano il video vi ho messo una musichetta però canta ladies no ladies no ladies no e poi accanto ho messo questo questo qui praticamente è un piattino che io ho preso l'altro giorno all'eurospin c'era anche il portabiscotti proprio tridimensionale però non mi piace non mi piace proprio come come oggetto d'arredamento e quindi ho voluto prendere il piattino e l'ho preso così perché c'era anche rosso ma mi piace il babbetto grigio amo i babbetti e poi questo è il runner non so come chiamarlo comunque questa tovaglietta che questa l'aveva ricamata ricamata mia madre e con le quattro candele dell'avvento e questo è ecco qua questo è tutto questo è veramente tutto il mio addobbo di natale vi faccio una panoramica non fate caso alle traverse per terra ma c'ho due cani stromboli a e poi non vi ho fatto vedere questi sui divani sui divani ho voluto mettere alla parte che avevo comprato questi questi cuscini pelusciosi l'avevo presi al mauris so fantastici ragazzi bellissimi morbidissimi poi ho preso al da shane questi copri copri cuscini che mi piacevano tantissimo e poi ho preso anche questi altri due copri cuscini scendi un po giù lucky che non si vede il cuscino lucky lucky amore devo far vedere il cuscino no vabbè lo faccio vedere con te davanti questi invece sono gli altri copri cuscini che ho preso da shane sono tutti sbrillucci così glitterati oro perché io sono un po così ultimamente questi altri dietro invece con la scritta home le ho presi sempre al mauris ma ci stanno benissimo e questi sono girabrilla vedete si può girare i glitter e viene l'immagine al contrario ma a me piace di più così così qui c'è l'arena e qui c'è scritto merry christmas e adesso invece vi faccio vedere quelli che ho in camera questi invece sono i cuscini che mi sa che avete visto già su instagram perché vi ho messo la foto e che ho sopra il letto in questo copri letto blu allora questi due dietro li ho presi da mauris questo davanti è una copri è una federa di shane sempre con i babbetti ovviamente con scritto merry christmas mi piace tantissimo 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 e niente adesso vi ho fatto vedere veramente tutto quello che ho addobbato in casa allora noi stiamo facendo i compiti tra un po andiamo vero? sì sai vedere il disegno che hai fatto dai questo che cos'è? è casa nostra con l'albero e il pesape tre fetti e babbo natale bravo adesso che abbiamo finito i compiti puoi anche mettere tutto a posto vero? sì però devo ancora colorare ah devi colorare le schede è vero è vero è vero è vero e allora dai colora le schede forza sì su 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 march allora sono appena tornata da ho preso aurora praticamente da karate e volevo farvi vedere una cosa allora domenica siamo stati ad orvieto per fare una passeggiata e abbiamo trovato un negozio che vende diciamo armi tutte cose un po particolari tra cui aveva tutta una parte dedicata ad harry potter e adesso vi faccio vedere quello che abbiamo preso perché sono delle cose fantastiche ecco appunto cioè tu proprio aspettate ora ve le faccio vedere meglio allora queste due le abbiamo prese in quel negozio allora questo negozio si trova a orvieto si trova al corso di orvieto e da tutta una parte dedicata ad harry potter tra cui delle bacchette ci sono di diverse di diversi fasce di prezzo allora abbiamo voluto prendere queste due che sono le bacchette secondo me più iconiche ovvero la bacchetta di boldemort che è questa qui bianca e la bacchetta di sambuco di albus silente noi siamo praticamente impazziti per harry potter poi non contenta io avevo preso a mia figlia un calendario dell'avvento di harry potter che purtroppo è arrivato ieri quindi è arrivato in ritardo però al suo interno abbiamo trovato anche queste due bellissime bellissime queste in realtà sono penne però i miei figli ci giocano come se fossero delle bacchette quindi loro si fanno un po le loro le loro magie le loro cose e però volevo farvele vedere in più in più dentro questo benedetto calendario dell'avvento che è arrivato in ritardo ho trovato anche questo che è inchiostro e ragazzi questa questa è bellissima è praticamente una penna stilografica con la piuma fantastica cioè a me piace da morire mi piace veramente da morire morire non vedo l'ora di usarla non so per scrivere che cosa però mi piace sottofondo c'è mio marito non ci fa di caso comunque questo e qui l'abbiamo trovato in questo calendario dell'avvento ma poi non contenta ho voluto prendere anche questo che è un libro sempre di jk rowling che è il maialino di natale ed è un romanzo nuovo lei è l'autrice di harry potter e l'ho voluto prendere mi piaceva tantissimo e mi piace anche come è scritto poi ha un po di disegni insomma molto molto carino e lo metto praticamente qua che è tutto il mio angolino harry potter vedete io ho tutta questa saga qua però adesso voglio fare un'altra saga un'altra collezione questi sono tutti i miei libri questi sono tutti quelli che devo leggere ancora e lassù questi la saga della ragazza delle sette sorelle scusate e poi ne ho preso un altro che è questo qui che sono il grande libro dei fantasmi di natale che è fantastico a mio parere perché guardate quanto è bello e poi ne ho preso un altro che ancora devo ordinare cioè non l'ho preso lo devo ordinare però bellissimo e quindi